Hanno fatto in poche ore il giro del web le foto desolanti, tristi e che più di ogni altra cosa sono riuscite ad immortalare la sofferenza di bambini e genitori rispetto all'ordinanza firmata nella tarda serata di ieri dalla regione Campania che ha sospeso tutte le attività didattiche in presenza dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori per effetto dell'incremento dei dati dei contagi che ieri hanno superato la soglia dei mille in tutta la regione Campania. La protesta si è svolta questa mattina davanti alla scuola Matteo Mari a Torrione e le mamme per domani hanno già annunciato un sit-in davanti alla prefettura di Salerno. Intanto questa mattina proprio sulla situazione dei contagi nel comune capoluoga Salerno è intervenuto il primo cittadino Vincenzo Napoli alla sua prima conferenza in presenza dopo il periodo di quarantena al quale è stato costretto per il contagio del suo autista. Nel comune capoluogo sono 38 attualmente dal primo ottobre casi positivi, 106 dal primo luglio ma ci sono come ricorda giustamente anche il sindaco di Salerno 102 guariti. Perché noi dobbiamo scendere a zero contagi e possiamo ottenere questo risultato se continuiamo ad avere un comportamento responsabile così come credo ci sia stato fino ad ora. I numeri che mi vengono forniti dalla dottoressa Iuele sono quelli che lei ha declinato e quindi sono aggiornati e sono attendibili. Il problema è che non è possibile abbassare la guardia. Dire che io sono moderatamente soddisfatto di come vanno le cose è un errore. Io sono soddisfatto da un lato, dall'altro sono preoccupato perché ho paura che declinando queste informazioni si possa dare una sensazione di tranquillità, di serenità. Non è così. Bisogna invece tenere alta la guardia senza naturalmente panico e disperazione ma bisogna tenere alta la guardia dove ciascuno deve svolgere il suo ruolo, quello genitoriale, quello dell'istituzione, le forze dell'ordine e quant'altro ma diciamo deve scattare un intimo convincimento da parte di tutti che ciascuno è responsabile di se stesso e degli altri. Chiediamo una parola di conforto anche alle famiglie. Questa mattina si è svolta una singolare protesta davanti alla Matteo Mari, la foto di un bimbo solo davanti ai cancelli chiusi della scuola. Domani le famiglie della Matteo Mari hanno annunciato una sorta di sit-in di protesta con i banchetti e i bimbi davanti alla prefettura. C'è grande preoccupazione, anzi anche difficoltà da parte delle famiglie alle prese con questa improvvisa chiusura delle scuole. Cosa possiamo dire loro, Sindaco? Possiamo dire che è comprensibile il risentimento e la difficoltà delle famiglie alle quali io mando un saluto affettuoso e un senso di coinvolgimento anche personale. Però le scelte che sono state prese sono scelte che vengono da una considerazione svolta nella comunità scientifica, nel Comitato Tecnico Scientifico che verifica una crescita spaventosa dei contagi nelle scuole. Io non ho i dati sotto mano, ma si verificano un numero di contagi importantissimo che hanno consigliato questa misura drastica.